Allora questa mattina abbiamo trovato una sorpresa ecco qui la sorpresa la sorpresa è questa, sono entrati anche qui al Vittoria Beach documenti per terra, cassa aperta qua, guarda un po' poi i documenti specialmente qua, le cose importanti tu lo metti pure là, lo metti per terra vedi qua va brutto ah ci sono pure le figurine aperte c'è l'aperto, le figurine dentro la cucina sembra che non abbia toccato niente andiamo a vedere verso l'alto qui dentro, tutto a posto guarda un po' sbarmi se c'è la cassa aperta sbarmi la cassa aperta mancano un po' di rigori vediamo un po' qui e da qui sono entrati da questa porta che da fronte mare sono entrati ci stanno più ormai un po' la sabbia portata da sotto qui mi sa che mancano le luci mancano le casse, le casse a spia non so se c'è anche la pianola andiamo a cela fuori, vediamo se hanno provato là adesso vediamo la polizia e vediamo il polizio e vediamo il polizia e vediamo il polizia